Alevino anche la nuova allenatrice dell'Under 23 femminile Michela Andreola. Michela buongiorno è cominciata da quest'anno la tua avventura in rosa come ti stai trovando? Buongiorno a tutti mi sono trovata da subito molto bene una cosa che mi piace molto mi dà soddisfazione e con le ragazze partita subito con il piede giusto quindi bene. Che gruppo hai trovato? Un gruppo di ragazze unite e con la voglia di arrivare in alto che è la cosa più importante e che ascoltano anche noi allenatori quindi bello. L'importanza di avere nel gruppo soprattutto femminile una voce una confidente donna è così? Beh questo è il motivo per cui sono qui per cui mi hanno voluto e credo che per le ragazze le atlete donne sia importante avere un riferimento femminile visto che solo noi donne possiamo capire le donne sia a livello mentale che fisico. Come ti sembra sia proceduta la loro estate insomma la loro preparazione ad un mese poco più dall'inizio della stagione come le trovi? Ma io le trovo abbastanza pronte quindi hanno fatto delle belle gare estive a livello di ski roll quindi speriamo bene e ormai siamo vicini all'inizio della stagione quindi siamo partiti col piede giusto adesso vediamo.